Buongiorno a tutti. L'H de oggi di oggi ci porta indietro di centotto anni. Al 28 agosto 1916 è alla dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania. Nonostante il patto di Londra, il governo italiano aveva aspettato 15 mesi e si era stabilito di attendere l'intervento del conflitto della Romania. Qualche giorno prima due decreti chiudevano le aziende appartenenti assuditi di stati nemici e dei loro alleati e proibivano agli italiani di commerciare coi tedeschi. Sonnino aveva inviato al governo federale svizzero una nota nella quale ricordava le crescenti ostilità da parte del governo di Berlino nei confronti di l'Italia. La Germania aveva prestato armi e partecipato direttamente con i suoi soldati e marinai alla guerra dell'Austria contro l'Italia e compiuto a danno dei sudditi italiani atti di rappresaglia economica nei confronti di una nazione la cui guerra non era stata dichiarata ufficialmente. La stampa tedesca così come quella italiana apprezzava la dichiarazione di guerra, sosteneva che poco sarebbe mutato e che in fondo quando l'Italia aveva dichiarato guerra all'Austria il 24 maggio l'aveva in realtà dichiarata a tutti i tedeschi.